Operando dal 1981, Puliartex ha acquisito un buon bagaglio di esperienza e di conoscenza del settore. Puliartex sa comprendere le esigenze di ogni cliente e possiede la struttura per soddisfarle. Nel tempo si è evoluta da semplice impresa di pulizia ad impresa multiservizi. Per l'erogazione di servizi di pulizia e sanificazione di ambienti civili, industriali ed ospedalieri, si è certificata ISO 9001 nel 1998. Ora le nuove sfide ci portano ad intraprendere l'iter di certificazione delle norme ISO 14000 ambientale, 18001 salute e sicurezza sul lavoro. I servizi proposti, oltre alla pulizia civile ed industriale, sono la sanificazione ambientale, la disinfestazione e derattizzazione, il recupero di ambienti a seguito di incendi ed allagamenti, lo smaltimento dei rifiuti degli uffici. Ci prendiamo cura del verde, effettuiamo la pulizia di pannelli fotovoltaici solari, effettuiamo il servizio di facchinaggio. Gli interventi vengono effettuati con prodotti chimici biodegradabili a norma di legge, oppure con ozono, ghiaccio secco, vapore e nanotecnologie che rendono rapida, veloce e sicura la pulizia di ambienti e superfici. I nostri dipendenti sono seri, professionali, affidabili, regolarmente assicurati, formati ed informati. Interpellateci per un preventivo, metteteci alla prova, sarete soddisfatti!